Eccoci alla recensione di PlayStation 5, la nuova generazione di casa Sony che regala un'esperienza di gioco rinnovata, estremamente rapida grazie all'utilizzo dell'SSD, lo vedremo con alcune clip in gioco e porta anche il dettaglio grafico su un nuovo livello, similare comunque con quello che abbiamo visto anche su Xbox Series X. Tutti i video di approfondimento li troviamo all'interno delle schede, quindi confronto con Xbox, man mano che verranno pubblicati, quale TV scegliere e cosa guardare se dobbiamo abbinare appunto un nuovo televisore per questa console. Andiamo ad approfondire dettagli tecnici e anche quello che riguarda tutto l'ecosistema Sony dopo la sigla. Prima di iniziare vi ricordo come sempre di lasciare un like, iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video e per qualsiasi domanda scrivetemi all'interno dei commenti o direttamente su Instagram di cui trovate il link in descrizione. In descrizione vi lascerò anche le console come negli altri video, nonché eventuali link di approfondimento. Dunque partiamo dalla parte estetica, il design di PS5 per quanto poi andiamo a posizionarla e poi quello che ci interessa è effettivamente l'esperienza di gioco. La console appare estremamente rinnovata, è molto più grande rispetto a quello che abbiamo visto su Xbox Series X e effettivamente dal punto di vista estetico piace, è bella e dà un tocco anche di moderno al nostro salotto dovunque la andiamo a appoggiare. Possiamo tenerla anche in orizzontale, la preferenza è per il verticale, c'è la base apposita che si può agganciare sia su un solo lato, soprattutto per quella con il lettore, sia ovviamente nella parte inferiore per tenere la console in verticale. Dispone delle uscite classiche, quindi uscite USB 3.0 per collegamento di supporti di storage esterni ma anche una porta USB tipo C per il collegamento e la ricarica anche del controller volendo. Dal punto di vista hardware abbiamo una console next gen chiaramente con un'architettura RDNA2 di AMD, 16 GB RAM GDDR6 e 825 GB una soluzione proprietaria di SSD che all'effettivo poi diventano circa 667 per l'utilizzo con vari titoli. Io ne ho installati vari, ho ancora molto spazio disponibile, comunque potremo tenere contemporaneamente diversi, questo anche dipenderà da quale titolo andiamo a scaricare perché nel caso di Call of Duty come sappiamo questo porta via molto spazio. Che però comunque può essere gestito. Inoltre possiamo scegliere quale parte del gioco installare o comunque selezionare cosa ci serve, quindi il single player o multiplayer, cosa che è successo anche con The Last of Us Remastered, ad esempio che è un titolo PS4. Giochi PS4 che girano tranquillamente su PlayStation 5 e effettivamente alcuni hanno delle migliorie. Migliorie che poi vediamo dal punto di vista grafico, soprattutto poi dal lato del framerate dove è possibile, se è possibile poi adattare la resa grafica, gli effetti di luce e tutto quello che riguarda l'esperienza di nuova generazione. La console sviluppa 10,3 teraflops di potenza di elaborazione che attualmente permettono di giocare ai principali titoli come anche God of War ad esempio, anche in 4K 60 frames. Sono in grado di gestire un framerate più elevato rispetto a PlayStation 4 ma anche di garantire una modalità di gioco più densa di dettagli. Attualmente proprio sulle nuove esclusive come ad esempio su Spider-Man Miles Morales, effettivamente c'è bisogno di andare a scegliere se vogliamo effetti di retroilluminazione come Ray Tracing appositi, quindi anche effetti particellari, una grafica migliorata in generale a scapito del framerate, quindi a 4K 30 frame, oppure se gestire e attivare il 4K 60 frame, andando però poi a perdere parte della qualità visiva sviluppata appunto dalle tecniche di illuminazione e di altri effetti all'interno del gioco, proprio a livello di dettaglio. Ho approfondito poi questo aspetto all'interno del video relativo alla presa, ai tipi di standard HDMI e tutto che servono sulle console di nuova generazione che vi lascio nelle schede. PlayStation 5 arriva in due modelli, standard digitale, lo standard è quella che vediamo con il lettore, questa review è relativa a quella ma quanto detto vale chiaramente anche per il modello completamente in digitale. Abbiamo visto le differenze tra i due modelli all'interno di un video che vi lascio nelle schede. Ad ogni modo PS5 spinge anche sul lato digitale nonostante abbia il lettore, non solo per i dischi appunto PS5, anche per la retrocompatibilità su PlayStation 4 e possiamo anche giocare un buon numero di titoli, non tutti, quelli che erano della precedente generazione, ma buona parte sono stati poi riadattati, alcune volte anche migliorati. Per quanto riguarda la parte relativa al software possiamo andare a gestire differenti opzioni direttamente dal menu delle impostazioni. Un software che è simile in quanto interfaccia con quello che abbiamo visto sulle precedenti generazioni dove troviamo alcune nuove funzionalità come la possibilità di andare a gestire non solo le informazioni relative all'uscita video e quindi ottimizzare al meglio quella che è l'esperienza di gioco, gestire quello che riguarda l'area di visualizzazione dello schermo e anche il lettore Blu-ray in questo caso e anche col controllo dell'HDR. Software minimale dunque completo come abbiamo visto anche nelle versioni precedenti in grado comunque di gestire anche tanti formati multimediali per la riproduzione di contenuti in 4K chiaramente anche su questa nuova console. Per quanto riguarda le possibilità digitali appunto Sony offre il PlayStation Now che è un servizio che permette di giocare in remoto ad una serie di titoli anche se allo stato attuale ha comunicato di stare lavorando ad un servizio similare al Game Pass di Microsoft quindi la possibilità di accedere a fronte del pagamento di un abbonamento direttamente ad una libreria di titoli di PlayStation e non solo. Quindi questo potrebbe far aumentare molto la popolarità della console e anche l'offerta proprio che viene fatta ad un prezzo uguale a quello della concorrenza perché allo stato attuale per i nuovi titoli comunque bisogna andare ad acquistarli fisicamente e non solo. Passiamo poi ad un'altra delle novità più importanti ovvero quella del controller che contribuisce oltre al comparto grafico la velocità di accensione e di esecuzione dei giochi a regalare un'esperienza di gioco migliorata. Parliamo del controller che è una delle novità maggiori della PlayStation 5. È un controller ridisegnato, completamente riprogettato appunto del DualSense come ben sappiamo, lo abbiamo visto nei due unboxing e effettivamente fa parte della nuova esperienza di gioco. Lo possiamo sfruttare al massimo in Astros Playroom, quindi il gioco incluso all'interno di tutte le PlayStation 5, scaricabile in digitale però comunque può essere integrato in termini di funzionalità anche sui nuovi titoli come su Call of Duty oppure su Spider-Man Miles Morales. Sarà sviluppato di sfruttarlo al meglio. In termini di grip rimane ottimo, la trama la conosciamo e l'abbiamo visto durante l'unboxing. Qui abbiamo una porta di ricarica USB di tipo C con la possibilità di ricaricare la batteria interna, un microfono nella parte frontale e anche un altoparlante. Gli analogici rimangono in posizione centrale, come anche tutti gli altri pulsanti sono al loro posto così come li conoscevamo nelle precedenti generazioni. Molto comodo e solido soprattutto al tatto e la parte centrale è sensibile al tocco e si può premere e comunque appunto su Astros Playroom lo sfruttiamo al meglio ed è un titolo proprio per far apprezzare addirittura tutte le potenzialità di questo nuovo pad. Altra novità effettiva sta nei trigger, quindi nei pulsanti dorsali che hanno una consistenza variabile in base al scenario di gioco che stiamo attraversando. La resistenza alla pressione starà effettivamente al gioco che stiamo giocando in base a quello che stiamo facendo appunto. Lo proviamo anche su Call of Duty in quanto li utilizziamo per mirare e sparare e proprio qui potremo assaporare la differenza, la pressione direttamente su questi pad. Stesso discorso anche per i giochi di guida che appunto possono avere la riflessione di acceleratore e freno sui pulsanti dorsali e regalare una sensazione magari di pressione maggiore proprio per il freno quando necessario. Parlando poi della line-up iniziale che qui abbiamo in modo consistente troviamo i giochi citati, quindi Astros Playroom che è incluso gratis in tutte le console, Spider-Man Miles Morales e effettivamente anche Demon's Souls e Godfall in versione PlayStation 5. Si tratta comunque di una buona line-up che permette di assaporare le novità della console, alcune volte come detto con alcune ottimizzazioni dalla parte del controller e permette di assaggiare subito quella che è la potenza della nuova generazione, con una buona varietà secondo me. Inoltre anche i giochi multi-piattaforma girano ottimamente e la line-up che arriverà il prossimo anno è comunque ricca, la vediamo qui, tra cui esclusive di livello come Nuo God of War, Gran Turismo 7 o Horizon Forbidden West, che è uno dei titoli che preferisco in quanto uno dei giochi che ho giocato un più piacere su PlayStation è stato Horizon Zero Dawn. Dal punto di vista delle esclusive, questa è una console completa che offre degli ottimi titoli. La vostra scelta può essere poi determinata ancora una volta da quello che troviamo in esclusiva su console, fermo restando che alcune volte alcuni titoli, come nel caso di Horizon, arrivano anche direttamente su PC. Con la nuova potenza a disposizione possiamo inoltre condividere i vari momenti di gioco con varie registrazioni, in modo semplice, con registrazioni in alta qualità e effettivamente PlayStation 5, raga, un'esperienza di nuova generazione. È una delle console che ho provato comunque con più piacere, assieme all'altra. Pecca un pochettino sull'offerta, appunto perché manca un servizio secondo me in abbonamento, che si spera arriverà proprio per avere la possibilità, anche partendo da zero, quindi se si è dei nuovi giocatori direttamente su PlayStation, acquistando poi magari risparmiando anche il modello digital, potrà accedere ad una vasta libreria di titoli. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, quale console preferite, comunque se avete già acquistato e provato PlayStation 5, perché lo stato attuale è un po' difficile da trovare, ma si spera che prossimamente possano esserci delle nuove scorte e per averle in tempo reale vi invito a seguire il canale Telegram dove abbiamo segnalato in tempo reale appunto la nuova disponibilità su Amazon ad esempio. Quindi io vi ricordo come sempre di lasciare un like e iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video, non solo a tema console e abbiamo analizzato anche quello che riguarda il comparto multimediale, quindi quello relativo alla TV da abbinare e che, spoiler dell'altro video che trovate sempre nelle schede, non è necessario andare ad acquistare una TV ultimo modello di fascia alta con il famigerato HDMI 2.1, proprio perché, come spiegato, il dettaglio grafico allo stato attuale arriva a 4K 60 fotogrammi al secondo, andando però a rinunciare ad alcuni dettagli grafici. Quindi poi sta al giocatore scegliere se avere un frame rate migliore, a scapito però della risoluzione e anche del dettaglio della grafica e dell'esperienza di gioco. Io sono chiaramente a favore sempre della migliore qualità. Fatemi sapere appunto qual è il vostro parere al riguardo e speriamo che con le ottimizzazioni, anche se ci vorrà tempo, raggiungeremo comunque gli standard promessi da questa nuova generazione. Quindi, come sempre, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.